Siamo a Piazza di Spagna, the day after, ci sono dei fiori qui, si domanda un collega giornalista perché, probabilmente perché, insomma, per segnare il lutto di questa fontana danneggiata. È morta la civiltà, ecco, ci suggerisce il collega. E non sembra danneggiata gravemente, come anche Marino ha detto, però, insomma, rimane... si sono dati un bel da fare per ripulire tutto velocemente. Ci stanno dei danni che hanno fatto? Hanno spizzato da qualche parte? Questo che è? Il bordo lì. Del bordo uguale? Quello lì, della fontana? Sì. Ah, ecco, vedete? Quello lì. Ecco, dove esce l'acqua? Dove esce l'acqua è stato scheggiato? Sì. Questo qui... E dove esce l'acqua dall'altra parte? E anche quel bordo, quello là. Sì. È un danno grave, eh? Questa chi l'ha fatta, questa fontana? Bernini. Eh? Bernini? Ah, proprio Bernini, ecco, quindi c'è. Bernini proprio danneggiato in questo modo... Barbaro. Gravissimo. Questo è il travertino, no? Ecco, vedete le parti danneggiate, scheggiate. L'hanno scambiata per una fontana di paesi. Gravissimo. 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 Gravissimo.